risponda risponda bavido clip rettiliani l'anima degli mortacci tua molti dicono molti dicono che è una finta un finto litigio per hype voi cosa ne pensate? lo vediamo secondo te due persone possono far pace dopo una grossa litigata tipo magari il giorno dopo no mi sembra un po' finito il giorno dopo già fanno pace una grossa grossa litigata una litigata importante non lo so no però può anche essere che una ha chiesto scusa e hanno accettato le scuse non lo so semplicemente cara chat poi dico la mia semplicemente cara chat dato che abbiamo in realtà ci sono due motivazioni perché stiamo facendo questa live quest'oggi semplicemente perché uno ci avete bombardato bombardato di messaggi dove volevate che comunque che arrivamo avete fatto un sacco di tiktok dove ci avete fatto vedere che facevamo l'intervista doppia e insomma è un sacco di cose insomma un sacco di tiktok carini pure quando che coroteava eccetera eccetera ci avete detto che comunque il nostro gruppo è stato la vostra infanzia eccetera eccetera oltre quello io già me per me personalmente comunque ho detto che con tutto quello che c'è stato e con tutto quello che abbiamo passato secondo me non era il caso di chiudere la storia così anzi magari facendo un riappacificamento si potrebbe anche riaprire un qualcosa quindi non chiudere qualcosa ma si potrebbe riaprire esatto quindi io a Checco io ho detto io ho detto a Checco io ho detto solo io ho detto a Porcuccio poi Porcuccio sembra che non c'è mai perché un fio di puttana potrebbe essere così ma non è così semplicemente ma Ciccio ce l'ha con le mamme ragazzi cioè c'è sta cosa del fio di puttana è una cosa allucinante bene stasera sta con la ragazza che poi lui domani parte non mi ricordo bene ma comunque è vero quindi in realtà le due motivazioni principali sono queste per quanto mi riguarda me in primo posto siete stati voi che ci avete praticamente distrutto i coglioni che effettivamente non vi piaceva come era finita la storia e due era il non chiudere in maniera negativa né con Checco né con Porcuccio e né tantomeno con Sole che è il povero Cristo che non ho veramente niente da dirgli e quindi queste sono le mie sono le mie dinamiche cioè queste qua sono le mie semplicemente questo perché non era secondo me una non era non era non era una roba carina finirla così quindi ho ricontattato Checco stamattina dicendogli coglione e Checco può dire la verità e l'insulto c'è sempre Ciccio proprio ha contattato sto Checco pompa e ho coglione ho contattato e ho detto coglione e io vorrei vorrei svegliarmi una mattina con Ciccio che mi dice coglione però Checco bomba però non è così perché banno no banno non lo so ogni tanto e niente è stato proprio così e quindi sinceramente io ho queste sono le mie motivazioni poi Checco se tu vuoi dire le due mentre io mi sorseggio è un calice di vino giusto di piscio allora mie motivazioni sono ho pensato sì secondo me abbiamo sbagliato entrambi i lati ma come il calice di vino ma il succo di frutta all'ananas a Ciccio ma non ci dica cazzate il calice di vino ma c'è il succo di frutta all'ananas ma mica me l'hai accorto ho visto adesso dai assurdo Ciccio che mente pure menti pure sul bere che ha sbagliato di più che ha sbagliato di meno io ho sbagliato ad alzare i toni che poi giustamente sono cioè io mi faccio prendere dalle emozioni ok e quindi facendomi prendere delle emozioni magari sbaglia anche a parlare sicuramente questo è poco ma sicuro e questo mi sto riferendo alla live di Blur l'altra sera e poi Mirko abbia sbagliato almeno per me che magari si è allontanato senza dire niente questo l'abbiamo già parlato o ha avuto le sue motivazioni però non l'ho accettato no no però no no non è vero io l'ho detto più di un'occasione che sì effettivamente se mi volete dare dello stronzo perché vi ho mandato a fanculo così sì mi prendo la la cosa di dire che ho sbagliato quello sì la posso posso dire sì è vero lì ho sbagliato io quindi ho pensato è inutile rimanere in una situazione magari di rabbia o rancore non ripeto secondo me non c'era cioè al mio punto di vista magari a renderlo pubblico io ripeto l'ho fatto perché volevo una risposta vabbè ma che secondo me tu come sempre vai fuori vai fuori non devi giustificarti cioè quel che è stato quel che è stato no 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 ma quel che è stato fatto è stato fatto sti cazzi sorvoliamo ma fagli spiegare ciccio ma ciccio ma fagli spiegare ma non gli fa spiegare sto paro che è stato fagli spiegare che è stato che è stato fatto una cazzata per video ancora pubblico sta a milione e due sì 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 sta a milione e due io vi ho detto l'unico errore di ciccio è stato non parlare in privato cioè capito non ti devi sta giustificare quello che hai fatto quello che non hai fatto cioè non ci interessa semplicemente di perché siamo qua non mi interessa chi ha sbagliato perché hai capito vivi la maniera più serena non dare giustificazioni alle persone diciamo ben poco gli interessa capito oddio nel senso che poi magari c'è piano per due pagliacci quindi no no in realtà allora 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 in realtà sei solo tu il pagliaccio caro Checco adesso che da come è intervenuto ciccio fa no 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 in realtà sei solo tu il pagliaccio però vabbè che sta grande ciccio sto contento però se hanno fatto pace io ho visto che ieri stavano a giocare perché è brutto quando due persone li dicono pensa l'abbiamo fatto per hype no invece che cazzo che ho fatto per hype vi diciamo questo non è che è stato fatto per hype assolutamente no perché non è che da adesso in poi Checco solo e porcuccio li giocheremo tutte le sere insieme assolutamente no perché Checco come già vi ho detto farà altre cose Sol si è tra virgolette stancato di fortnite a tutte le sue motivazioni poi se uno vuole venire a giocare mi manda un messaggio e giochiamo porcuccio fa la sua eccetera eccetera ci possiamo rincontrare ogni tanto ma non vi credete che questo ha riportato il team a essere il team PG come era prima capito non ritroverete checco impegnato con gli alcolisti anonimo sembra sembra ragazzi ma se sarà fatto un bicchiere di vino ma lascia ma lasciamo ma lasciamo ormai ecco è diventato ubriacone cioè quindi secondo me secondo noi la cosa più giusta ma no c'è Naro ma guarda che iure nessuno l'ha mai mandato via iure iure ragazzi iure non è stato mandato via ammettono ogni volta la cosa di iure ragazzi semplicemente iure ha scoperto la figa per questo è scappato e ve lo volete la verità è questa ha scoperto la figa e ci ha lasciato tutti giustamente adesso lo siamo giocato è così infatti sempre messo in mezzo iure poi ieri ieri ho visto la partita stavo in live ho visto la live dei ciccio che c'era a soul ah era solo quello della figa pure lui vabbè hanno scoperto tutti un po' la figa se n'è andato da solo capito iure se n'è andato da solo nessuno ha mai detto che iure è una merda anzi iure è andato via capito quindi tutto qua non è stato per fare hype se anzi mi dispiace dirlo ma chi dice pagliacci tra virgolette perché non sono persone che superano i 12 anni mentali no no ma ciccio è il pubblico tuo ah mentali mentali non avevo capito mentali non avevo capito mentali pensavo 12 anni tipo non ci arrivano no però non fa niente capito giustamente la gente noi lo capiamo perché siamo grandi vabbè non è che io ho 50 mila anni per carità però alcuni lo capiscono ed è una cosa bella questa qua che siamo in armonia cioè regala la vita non si vive no ma poi scusatemi ma non hai capito che ci sta ci sta uno che dice l'avete fatto troppo in fretta ti ricordi questo è una cosa che anche checco a me mi aveva detto giusto però io che cosa ti dissi checco la vita è troppo corta è troppo breve ma che devo fare no scusami però checco un'altra cosa ma se noi volevamo subito risolvere perché dovevamo aspettare delle tempistiche indotte dal web non esiste basta ma se uno se vuole prendere pizza se prende a pizza subito se uno vuole risolvere risolve quindi io ti denunciavo eh sì ragazzi mi aveva la denuncia io ti denunciavo capito quindi è tutto là non non perché aspettare del tempo prima di risolvere ripeto io pure a Mirko infatti l'ho detto prima io l'ho detto ma non è che magari è troppo presto poi ci prendono per coglioni però a me sinceramente vive con la coscienza che così fa una marea di pippe mentali ma proprio una marea non è troppo non è qui non è che poi non è che poi non è che poi dicono che è tutto fake non è che poi c'è tanti pare non è che poi palle ma vivite la che cazzo mamma mia ho messo queste cose proprio è vivite la ma scusate ma perché dovevamo stare a capodanno col pensiero a cazzo però potevo riappicificarmi prima cazzo potevo farlo prima le cose sono andate come dovevano andare basta le cose sono andate come dovevano andare ragazzi se lo dice ciccio gamer va bene così e questo è semplicemente questo è semplicemente questo è ma poi a me vi dico la verità la cosa che mi pare strana e so sincero è il con quanta velocità hanno fatto pace quello quello mi pare troppo c'era vedendo checco che ce l'ha così tanto con ciccio la la eh sarebbero troppo bravi bravo pulce però la la troppa capito come posso dire la troppa velocità per far pace è stato troppo veloce però beh eh capito se sono scannati la sera prima si sono detti le peggio cose poi hanno detto no ciccio va no io non voglio sapere più niente di che ecco poi il giorno dopo è strano è strano raga nel senso io ripeto un'altra volta non sono cattivo sono passato magari anche per cattivo perché ero arrabbiato sicuramente sì questo è sicuramente sì risultato che io sono passato per una persona mostro è ubriaca è ubriaca mortarci tua è di tua madre è di chi non lo dice però ti cazzi c'è nel senso tanto lui ma tra virgolette ha detto una cosa brutta io ho detto due lui due lui due ma lascia perde col conteggio delle cose brutte ma che significa no no non è che sto qua a pensare quello che mi hai detto perché io te l'ho dette tu me l'hai detto allora per me tu ripeto fai dei ragionamenti un po' da bimbo minchia delle volte ah per dirti sì sì boh stop abbiamo riappacificato va via cioè capito ha ragione soul pure secondo me ma soul porello ma che cazzo soul non devi cioè se vuole dice ma porello che cazzo devi dire soul cioè può dire quello che vuole ma soul ma porello sei ritrovato in mezzo senza aver fatto un cazzo quindi non è che poi tu ancora mi devi dare le motivazioni perché un giorno io le saprò le motivazioni ecco poi te le mando su whatsapp e te le dico ma sono cose dal vivo ma è uguale che cazzo cambia che cazzo hai rotto il cazzo cioè vuoi per forza litigare che cazzo hai visto poi me le dici dal vivo ecco c'hai rotto i coglioni poi te le dice e non per cazzo poi te le dice no me le devi dici dal vivo non rompe i coglioni e basta la fatta pace e basta e che cazzo che cazzo per cortesia bella Lennard che cazzo cambia te le dirò te le dirò non è un problema perché a me sinceramente a me se me le dici mi fai un favore quindi secondo me va bene così raga cioè io ho detto io sono contento di essermi riappacificato assolutamente ma basta poi ho visto un botto di persone dispiaciute per sta cosa qua eravamo pure dispiaciuti noi boh stop e questo è e questo secondo me il quanto poi va bene niente alla fine abbiamo chiarito anche perché era una situazione che a me non stava piacendo di conflitto e non l'abbiamo fatto per hype ovviamente ci ritengo a ribadirlo perché la gente rincojonita rincojonita frate ma io non darei dei rincojoniti a gente cioè però se il giorno prima aveva scannate la sera prima aveva scannate e il giorno dopo fate pace cioè la gente la gente abituata comunque a tante cose fake se fanno domande penso io ho ragionato così infatti dopo quel giorno dopo ho visto che hanno fatto la live insieme hanno fatto pace io dico ma ciccio io ti distruggo ricordiamo tutti ci siamo tranquillamente accorti che stavamo sbagliando entrambi ci siamo chiesti scusa basta le persone mature si vedono anche da questo aspetto e va bene così io sono felicissimo quindi coscienza a posto ognuno ha la sua vita giusto quello che ognuno ha la sua vita quindi a posto per me situazione chiusa sono felice contento e e niente basta viva la fuga vabbè il succo del discorso ragazzi è che hanno fatto pace i paguri poi io non so se se non so se questa cosa quanto durerà se durerà non lo so però allora i paguri sono riuniti noi siamo felici e e va bene così ragazzi va bene così e niente hanno fatto pace dopo una litigata tremenda questo è riassunto che ve devo dire hello clochar